esiste un gene di lunga vita per rispondere a questa domanda alcuni scienziati olandesi hanno analizzato il dna di una donna vissuta sino all'età di 115 anni e ne hanno sequenziato l'intero genoma nata prematura e con scarse speranze di sopravvivere la centenaria ha mostrato sino alla fine una grande lucidità mentale e un ottimo stato di salute quando aveva 100 anni ha superato brillantemente un intervento chirurgico e all'età di 113 anni sottoposta a test neuropsicologici ha ottenuto i punteggi di una sessantenne come se il suo cervello fosse stato 40 anni più giovane della sua età biologica i medici credono che il segreto di questa donna sia nascosto nel suo dna e già ad una prima analisi ha mostrato alcune piccole anomalie rispetto al codice genetico della maggior parte degli individui è possibile che esistano alcuni geni speciali in grado di prevenire le malattie e l'invecchiamento ed è forse in questi geni il segreto dell'eterna giovinezza